Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess, io sono Fiona e mi trovo a Gamescom 2017. Ho appena visto i giochi mobile di Ubisoft e ve ne parlo tra poco, ma prima sigla! Eccoci qui direttamente dallo stand di Ubisoft della Gamescom 2017, ho appena visto South Park Phone Destroyer e anche Assassin's Creed Rebellions. Il primo, ovvero South Park Phone Destroyer, è un gioco per smartphone, per iOS ma anche per Android, si tratta di un gioco di carte in tempo reale che è al contempo un RPG. Non si è capito niente? Va bene, provo a spiegarvelo in parole semplici. In South Park Phone Destroyer ci sono due modalità, la prima è il single player con oltre 60 livelli giocabili, ogni livello ha 15 livelli di difficoltà. Questo per dare la possibilità a ogni tipo di giocatore di godere appieno di ogni singolo livello, ma anche di avere la possibilità di ottenere molti loot e molto più potenti in base al livello che sceglierete. Se invece volete giocare nella modalità PvP, che è quella più divertente tra tutti, potete avere o un vostro clan, oppure affidarvi al matchmaking che viene fatto direttamente dal server dello smartphone. Quando vi ritroverete per le strade di South Park, a un certo punto incontrerete dei nemici, per combatterli dovete semplicemente scegliere delle carte che si animeranno, quindi sono come delle vere e proprie invocazioni. Ogni carta ha le sue caratteristiche, ovvero ha un livello di attacco, ha una difesa, c'è anche un healer, quindi ci sono tantissime carte che si potranno ottenere, più combattete e quindi più carte potrete ottenere. Il gioco inizierà con uno starter pack e ovviamente verranno aggiunte molte altre più carte. Ci sono anche carte speciali che si potranno ottenere magari solo in un dato weekend o solo in un dato giorno per delle occasioni molto speciali. Il gioco è caratterizzato dalla grafica solita che contraddistingue tutti i giochi di South Park, curatissimo in tutti i dettagli, decisamente irriverente, molto simpatico e tutto doppiato. Noi l'abbiamo visto in inglese, quindi con dialoghi super divertenti. Devo dire che mi ha stupito, non pensavo che un gioco di carte potesse essere così carino, così simpatico e così appassionante. Passiamo ora invece a Assassin's Creed Rebellions, che mi è piaciuto molto soprattutto perché ha uno stile grafico spettacolare. Ogni singolo personaggio è caratterizzato come se fosse un personaggio degli anime e dei manga giapponesi, anzi più che degli anime e dei manga, dei Vinyl Toys, ovvero quei pupazzi, quei giocattoli che trovate in commercio che hanno la testa gigante e il corpo piccolissimo. Sono molto carini, sono super teneri e saranno presenti più di 40 personaggi di tutte le serie di Assassin's Creed. Si tratta di un gioco di ruolo in tempo reale a scorrimento. Vi troverete di fronte a un edificio molto grande e ha delle stanze da dover ripulire dai vostri nemici. Per ogni stanza dovrete scegliere quale personaggio utilizzare per attaccare i nemici. Volendo potete anche decidere di utilizzare degli altri personaggi magari semplicemente utilizzando lo stealth, così da non incappare minimamente in nessun tipo di battaglia. Il gioco è contraddistinto da uno stile unico e da una caratterizzazione molto kawaii, molto giapponese. Questo infatti incide anche su tutta la parte di crafting e di tutto ciò che dovrete fare all'interno del gioco per poter avere dei personaggi più forti, per avere delle armi più forti e per progredire all'interno del gioco. Non mi aspettavo così in questo modo, questo piccolo Assassin's Creed Rebellion e in effetti è molto carino, ripeto, molto kawaii, caratterizzato in modo splendido. Infatti mi sa che ci giocherò anche solo per vedere tutti i personaggi che si trovano all'interno del gioco. Questo invece è un gioco free to play, ovvero lo potete scaricare gratuitamente ma poi potete fare anche degli acquisti in app che ovviamente non sono obbligatori. Per adesso entrambi i giochi sono in beta testing in alcuni paesi del mondo tra cui il Canada e le Filippine, in Italia arriveranno. Entrambi si spera entro quest'anno. Noi comunque non vediamo l'ora di provare sia South Park Phone Destroyer ma anche Assassin's Creed Rebellion. Direi che per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!